Signore? 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 Stava sognando? Mi spiace, ma non saprà mai come andrà a finire. Artù! Sei tu. Te l'avevo detto che sarebbe tornato. Vieni da lontano? Da dove? È qui sotto! C'è il casolo! Ma certo che erano tutti matti stietruschi, se credevano pure che nel volo degli uccelli si può leggere il destino. Giù di età. Grazie. 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 Grazie.